Reati complessivamente in calo in Abruzzo, in linea con il trend nazionale, ma l'allerta resta alta nella provincia di Pescara, soprattutto per droga e rapine, e in quella di Chieti, sul versante dell'usura. È il quadro che emerge dallo studio compiuto dal Sole 24 Ore, che ha elaborato l'indice della criminalità nelle 106 province italiane sulla base dei delitti denunciati nel 2021 per ogni 100.000 abitanti. Nella graduatoria generale Pescara si piazza al 34esimo posto per tasso di denunce, segnando un calo dell'11% rispetto al 2019. In una posizione intermedia troviamo Teramo, 55esima, con il numero dei delitti in calo del 13,2%. Situazione decisamente più rosea a Chieti, all'ottantesimo posto in calo del 4,2% e soprattutto all'Aquila, al terzultimo posto, in calo dello 0,8%. Per quanto riguarda Pescara, preoccupano soprattutto i reati di droga. La provincia adriatica è settima su scala nazionale per l'attività di spaccio, che nel 2021 ha fatto registrare 168 denunce. È decima per possesso di stupefacenti, con 237 denunce, ed è undicesima con 26 denunce per traffico e produzione di droga. Da est allarme anche il dato riguardante le rapine. Sesto posto per le rapine in abitazione, 14esimo per le rapine in banca e 14esimo anche per le rapine negli esercizi commerciali. Da non sottovalutare, infine, il fenomeno del riciclaggio e dell'illecito impiego di danaro, che vede la provincia pescarese al ventesimo posto in Italia. Spostando lo sguardo sulla provincia di Chieti, colpiscono il secondo posto per il tasso di usura, il secondo posto per l'indice relativo agli omicidi preterintenzionali e il quarto posto per gli omicidi da incidenti sul lavoro. La provincia di Teramo è settima per casi di violenza sessuale ai danni dei minori di 14 anni, ventunesima sul versante degli omicidi colposi e seconda per tasso di rapine in banca. In provincia dell'Aquila, gli unici delitti che destano qualche preoccupazione sono quelli informatici, 135 in termini assoluti che valgono il ventiduesimo posto su scala nazionale. Il territorio aquilano figura inoltre al sesto posto sul fronte dei delitti connessi alla violazione della proprietà intellettuale e all'undicesimo per i reati caratterizzati da associazione di tipo mafioso. Queste ultime due voci, tuttavia, sono connotate da numeri estremamente contenuti che fanno impennare l'Aquila verso l'alto unicamente alla luce del rapporto con il dato demografico.